un microfono come questo per Mario 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 la recitiamo San Francesco insieme? si Mario è stato recitato in inglese San Francesco in Inghilterra e in America ha avuto un grande successo e la cosa superfacente professori, universitari che venivano a vedersi questo monologo recitato si prendevano gli appunti con i ragazzini ed rimanevano fermi, fissi nel suo cuore di scoprire un San Francesco che non conoscevano e poi c'erano apprezzare venivano, sono andato a verificare proprio così e pensa che ho vissuto tutta la vita sui gambe e mi hanno imbarugliato cioè erano commossi e risentiti per aver scoperto di essere stati buggerati attraverso il risurso all'ultimo modo voglio dire che se se questo Papa seguisse davvero le storie vene di San Francesco ne avergli per fuori uno che lo mettono in galera dopo me diceva di San Francesco e per quello che faceva c'è sicuro non lo possono mettere in galera ma le hanno messi anche in galera di parte e i tanti ai quali non parlano perché il loro agire era soprattutto degno degno era un modo sono state anche ammazzate di passi bisogna riparla un po' tutta la storia